Avvocato Gabriele Melogli, lei fa parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine Forense. Qual è lo stato di salute di questo vostro ordine e di conseguenza dei colleghi, oggi in questo momento così delicato? Noi abbiamo operato, già il 2 luglio abbiamo ricominciato, facciamo tutto in presenza, anche ieri sono stato a Roma per esempio, abbiamo fatto una seduta in presenza, cioè non lavoriamo da remoto perché ci rendiamo conto che è molto più complicato il collegamento, poi attualmente siamo 25 per cui praticamente anche assicurare un collegamento a 25 persone in tutta Italia non è proprio una cosa semplicissima con tempi contingentati, però diciamo che il Consiglio Nazionale Forense opera normalmente, anche se ci rendiamo conto che c'è un grande aumento di difficoltà soprattutto perché arrivano le segnalazioni dei vari Consigli dell'Ordine, cioè questo periodo è stato devastante non solo per l'avvocatura, per gli utenti perché chiudere tutto significa veramente paralizzare l'Italia. Noi abbiamo subito tantissimo e non soltanto noi ovviamente, ma anche tante categorie di professionisti che lavorano comunque orbitano intorno al Tribunale, sempre riferisco ai consulenti, agli ingegneri, ai avvocati, ai geometri, insomma è tutta una categoria di medici che fanno le consulenze, quindi veramente è stato un periodo terribile dal quale stiamo cercando di uscire fuori con grande difficoltà perché è vero che l'attività è ripresa, ma è ripresa comunque non più del 50%, diciamo così. Le prospettive non sono delle migliori perché purtroppo il virus è ancora in circolazione e c'è il rischio che quando si verifica un caso di contagio, per esempio nel Tribunale, venga sospesa di nuovo l'attività, per cui diciamo che non abbiamo, non possiamo fare delle previsioni ottimistiche per il futuro, anche se ovviamente ci auguriamo che tutto possa ricominciare come prima. Ma questi avvocati che avevano chiesto quel contributo di 600 euro, poi l'hanno preso? Beh, una buona parte degli avvocati che io sappia aveva preso questo contributo, forse non tutti, ma stiamo parlando di 600 euro, stiamo parlando di una summa inferiore al reddito di cittadinanza, ma lo studio professionale è rimasto tra le quali, chi aveva segretario ha dovuto continuare a pagare, chi teneva le scadenze, le bollette, la bergera, non è dovuto pagare, quindi diciamo che sostanzialmente c'è stato veramente un periodo di grande difficoltà e ripeto, questo periodo di grande difficoltà ancora continua perché ovviamente in quel periodo sentenze, attività non è stata prodotta.